Roman Kreuziger, oppure dici tu come si pronuncia il tuo cognome, uno dei favoriti, dei possibili protagonisti del Giro d'Italia 2012, maglia bianca del miglior giovane dell'anno scorso, il podio è alla tua portata? Ma tanti dicono così, però poi strada facendo si vedrà, io sono uno che di solito grande giro lo vive giorno per giorno e non faccio grandi pronostici primi. La Stana in primavera ha avuto i risultati strepitosi alle classiche, qual è il segreto della squadra quest'anno? Sicuramente possiamo passare tutti un buon inverno e quando riesci a lavorare all'inizio dell'anno poi fai meglio. Tu diciamo hai le possibilità di proseguire poi su questo cammino, quindi? Pensi di poter imitare i vari Gasparotto, i Glinski? Ma sai, vincere è sempre difficile, però siamo qui e non bisogna mai partire sconfitti, quindi ci proviamo. Qual è l'avversario che temi di più? Ma non ce n'è, sono tutti più o meno lì. Bocca al lupo, grazie.